L'obiettivo principale è quello di dare uno spazio che è pubblico ma è usufruito in modo saltuario dalle persone, dare un nuovo spazio pubblico nel cuore pulsante della città. Il cortile di Palazzo Trissino, il municipio della città di Vicenza, è destinato a diventare un nuovo spazio urbano da frequentare, non solo offerto a chi necessita di rivolgersi agli uffici comunali, ma nelle intenzioni dell'amministrazione anche ad un pubblico e un uso più vasto. Quest'operazione, una sorta di creazione di una nuova piazzetta municipio, la chiamo momentaneamente così, avrà tre fasi. La prima l'abbiamo realizzata oggi posando sei nuove rastrelliere per le biciclette, per 30 posti bici in più, che saranno usufruibili non solo per chi lavora in municipio, ma per tutti i cittadini della città, ovviamente in orario di apertura del calcello del municipio. Quindi sarà uno spazio più usufruibile da parte della cittadinanza di chi vuole recarsi in bici in centro per poi fare una passeggiata per il centro storico. Lo spunto è stato offerto dall'esperienza di altri comuni italiani, in particolare quello di Bologna. Il cortile municipale, arredato con numerose panchine e fioriere, è molto frequentato dai cittadini. Un luogo che implicitamente è anche ben sorvegliato, un modo per incentivare la ciclabilità e ridurre l'uso cittadino delle automobili. Successivamente, indicativamente in autunno, stiamo pensando a un nuovo arredo verde del cortile centrale, con delle sedute, in modo tale da dare maggiore accoglienza ai residenti, ai cittadini, ai turisti che ogni tanto buttano lo sguardo dentro il cortile di Palazzo Trissino, ma non sanno mai se possono entrare, a volte non sanno neanche cos'è questo spazio. Quindi intendiamo promuoverlo spiegando la storia del palazzo e anche le funzioni che svolge attualmente, anche con un punto informativo informale dal punto di vista turistico.